Lei, chi è? Pietro, assessore dello sport Assessore, cosa farà per lo sport d'Abruzzo? Far diventare muscoli alla gente Lei, chi è? Alessandro, assessore dello spettacolo Cosa farà per l'Abruzzo? Far diventare tutti quanti Buongiorno, lei, chi è? Enri, sindaco del San Giacomo Per aggiustare in tutte le case Lei, chi è? Matteo, presidente dei giovani Il presidente dei giovani, cosa fa per i giovani? Nella gelata di caramelo a tutti quanti Facciamo un patto, uno per uno Abruzzo e tutti A te, a te, a te Grazie a tutti 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 Grazie a tutti